Chiara Ferragni, perché è scomparsa dai social Da quando, dopo la vacanza a Dubai, l'imprenditrice è tornata a Milano, non c'è più stata traccia di lei né su Instagram, né su Telegram. Le ultime foto che ha postato la immortalavano a Dubai, in vacanza con i suoi bambini, la mamma e la sorella Valentina. Poi Chiara Ferragni ha fatto ritorno a Milano, mentre Leone e Vittoria sono partiti per Miami insieme al papà, Fedez. Da allora, dell'imprenditrice digitale non c'è più stata traccia sui social. Né su Instagram, né su Telegram, dove era sbarcata da appena un paio di settimane, proprio per poter comunicare di più e meglio con i fan. La scomparsa di Chiara Ferragni dai social media ha scatenato una serie di speculazioni e preoccupazioni tra i suoi follower, che si stanno chiedendo come stia e perché abbia deciso di chiudersi nel silenzio. Chiara Ferragni starebbe effettivamente attraversando un momento davvero molto difficile. L'imprenditrice starebbe quindi dedicando tempo a se stessa per superare il periodo di crisi, iniziato ormai mesi fa con il Pandoro Gate e proseguito con i problemi con alcuni dei suoi sponsor e con la crisi con il marito Fedez. La separazione temporanea dai figli potrebbe avere reso ancora più difficile affrontare questo periodo così problematico. La scomparsa di Chiara Ferragni dai social media ha scatenato una serie di speculazioni e preoccupazioni tra i suoi follower, che si stanno chiedendo come stia e perché abbia deciso di chiudersi nel silenzio. Chiara Ferragni starebbe effettivamente attraversando un momento davvero molto difficile. Silenzio, strategia e ragionamento. Lontano dai social, lontano dal cuore. I figli sono altrove e lei preferisce non farsi vedere, tornare a parlare anche in rete quando le cose andranno meglio e ci sarà, forse, più equilibrio. Sicuramente l'intervista di Fedez a Belve non aiuterà il ritorno di Chiara sui social. A mio avviso è improbabile che possa rispondere a quanto esternato Fedez. E allora, è possibile che Chiara Ferragni possa aver ragionato come faccio di solito io, nel dubbio, scelgo il silenzio. Nel frattempo, Fedez è appena arrivato a Los Angeles, probabilmente per assistere al Quakella Festival. Da solo. Grazie.